Bella a tutti ragazzi, io sono Palombo e oggi è lo speciale 5 iscritti, grazie mille. Oggi siamo in compagnia di Rosa, Rosa saluta. E dello scape? E dello scape, saluta scape? Bella raga. Che ha guardato la live erano con me. Adesso faremo un po' di zone wars e dopo faremo runners vs... Ehm... come si chiamava? Ehm... ragazzi, noi siamo i bici, siamo i bici, siamo i bici, siamo i bici, i bici, siamo i bici, bello youtuber, bellissimo, grandissimo, famosissimo, Palombo! Trattino basso. Ah, stasera e dopo questo video vi porterò FIFA stasera e speriamo che vada bene. Eh, la carriera è pure online, online. Allora, se riesco a farci uno spoiler, forse dovrei farlo con il mio babbo, se tutto va bene. Uuuuh, Oxfide è speciale? Eh, certo. Oxfide è speciale, specialissimo. Eh, infatti, specialissimo. Vai, sono iniziate le zone wars. Sì, c'ho un ciocchino, c'ho un ciocchino. Sì, ora si esce, c'era un pochino, c'era anche il loro... Ci sto rimanendo malissimo. Perché c'ho un noto dalla... Bellissimo. Riprodo il sacco, il belissimo. Non è male. Ma io, qua accanto, c'ho il roso, c'ho... Io scavo accanto. Ah, allora va bene. Mi sono già scappato. Allora busciare. Torosa scappa come una gazzella. Eh, certo. Ma il roso è? No, dai, roso è nascondere, no. Non mi sono nascosto. Non mi sono nascosto. Nipa. Ma ho l'indo è. Te pensa, pensa combatteri con me. Raga, ma sta chiedendo la sessola? Raga, ma sta chiedendo la sessola. E certo. Ma la... E cavolo. Ciao, scappa. Qua. E che? Eh, quel senso. Dovevo lì? Nel cesso. È morto. Te lo sai scappa dove è? È morto. Oh, cavolo. Ma perché ti fa l'uomo con il suo ciclo legno che ci ha per farlo? Non mi stessa. Ma io costruisco sempre con il mio piaccio. Eh, ha un fatto da qui. No, io ho con tutto il mio legno. C'è con il mio legno. Io ho fatto tutto con il legno. Balla, balla. Balla. No, dai. Ma usa le bende, cara. Eh. Usa le bende, usa le bende. Tu scommetti che adesso... Ah, ok. No. Ah, se ti voglia. Quanto c'hai di vita? Quanto c'hai di vita? 20, è vero. No, 50. Eh, sì, avevo 56 in tutto. Eh, vabbè, ci sta. Io direi di fare un'altra partita. Ah, come si chiama? Zone Wars. No, c'è tanti round. Sì, sì, facciamo più di quel partito. Ah, raga, facciamo una partita con Becci round. Ragazzi, è tornata al centro, è tornata al centro. Ok. Tornata al centro. Metto un altro tipo di Zone Wars. Metti? Un altro tipo di Zone Wars. Metti la box. No, no, no. Vieni qua. Box fight. No. Ragazzi, mi raccomando, se volete cosa dici. Vi dici, ti piace. E iscrivetevi. E contattatevi. E raga, le donazioni sono sempre ben accette, quindi. E soprattutto le donazioni, quelle belle. Quelle belle succose. No, va benissimo anche un certesimo. Perché, povero, va bene anche se gli date una felpa sul primo originale. Raga, ma vuoi avere... Raga. Eh. Vieni. L'iscritto migliore è il mio babbo, vero, Bado? Mm? L'iscritto più sfidratato è il mio babbo, vero? Sì. Si è scritto, scape? No. Fallo iscrivere. No, ho fatto vedere un video oggi. Ho fatto vedere un video. Qual è? Quello di Rainbow? Eh, sì. Era figo. Poi ho giocato anche bene. No, le ho fatto vedere due secondi. Perché oggi era un po' iniziale, quindi non ho detto, ma dovevi fare quella cosa di scuola. Però ho giocato parecchio bene. Fatto 7 kill. Fatto due doppie. Oh, scatate! C'è il codice operatore, dovevi fare il codice operatore? Eh, quello sarà una cosa... Ma come fai la fare il codice operatore? Non lo so, ecco perché. Scappe chi compri per compri, Fredito lo compravi. Ehm... Boh... Il MacBook. Ah, l'ho comprato l'HP. Ah. Che anche un tipo un po' da gaming. Ci sta? Sì, c'è fra... La completo perché il mio fratello già ce l'ha, ti ho detto che... C'è, si è andato benissimo. E ti volete che è meglio anche degli altri. C'è, tipo, è meglio di un Lenovo... C'è il Lenovo... C'è il Lenovo... C'è il Lenovo... C'è il Lenovo... Di un Nokia... Boh, fratico... Il mercato me l'ho contato fratico, costa duemila euro. Sì, però non parliamo di soldi ora... Vabbè, ci sto, è vero, vero, scusa. Sennò è copyright. Eh, vero, scusa, scusa. E' rosa, ha iniziato l'argomento, quindi c'è un po' sulla. E' sempre troppo sua. Certo. Vai, Falombo, basta! C'è il LUT, ma non lo schifo! Falombo, basta! Ma adesso c'è il LUT, c'è il LUT che non è che fa schifo di più! Ma tanto fai schifo di già? L'ho uccito! Viva, ecco! C'è il LUT, Falombo, madonna! Ma perché devo capita sempre vicino a Falombo? Non posso capita vicino a Falombo! Eh, ti meri vicino a me, però, eh! Ti meri vicino a me! Eh, ma te, te ti nascondi! Non c'è un Chiappa la Talpa! Non c'è un Chiappa la Talpa! C'è un Chiappa la Talpa! Sì, però che questo è il primo LUT, c'è Chiappa non è che! Eh, può acchiappa la Talpa! Ah, è Chiappa la Talpa! Chiappa la Talpa alpa! Ma che cavolo! Ma Chiappa! No, perché se era Chiappa è nel senso... Sedele! No, è Chiappa la Talpa! Non c'è un'altra cosa! Non c'è un'altra cosa! Non c'è un'altra cosa! Non è copi, la il Covileite è un'altra cosa, è molto scopido! Ma lo so Alcuna fretta Vabbè non discuto a me Fatti un pesce Oddio 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 Fra da registrazioni Può vedere che cosa hai fatto Edshot 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 Sì Hai registrato Sì 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 Fra hai fatto una roba incredibile Oddio Fra Bella Bella Non scappi Ma sempre vicino a pallone Ma non me sta bene Raga ma Ma perché sempre Raga La classifica è sempre stata Primo secondo perso Primo secondo perso Fra ma che scelta Che ti ho fatto È lì Primo Io secondo Terzo scappo Non può vincere lui eh No Come dire Non lo so Fai una secchinata Anche mirando Anche mirando E poi sul video Dicino Mi lavo Io aspetto Che cosa fa rombo Anche mirando Non mi la fa Scusate Oh Che cosa è sta roba Questa zitta mafia C'è una tattica Oh che fa Quello bimbo Dai rosa Dai rosa C'è un 3 di vita No ma che dici C'hai tipo Dai C'ha 70 No ora mi sta curando Ora mi sta curando Con il cerchio Con il cerchio Che fa 75 Uff Franchi sono morto In pratica Fatti dubendi Dubendi Che tanto Volevo si ora Volevo si più Eh infatti Oh cavolo No E dai Oli ma quando ti so Per uccidere Fra quanto c'hai 3 di vita Veramente Sì Puoi guardare La registrazione Tanto c'è sempre La var C'è la registrazione Ormai la var Ragazzi c'è un loot E anch'io Ma nonna Spettacolare Il mio Oli ma te prima Te hai fatto anche Lo shield Tutto No Oh cavolo Solo bende Perché lo scavo Si sta camperando Deve arrivare Secondo Io so Che dici Oh Bella Cavolo Ma perché Non mi fa Guardare Palombo Sei solo un mito Sei un mito Sei un mito Onde è il palombo Eccolo il palombo Oddio Ma Non si può far cadere Questo è infamaggio Eh sì 290 Hatch San formaggio San formaggio Raga io ora metto Metto la musica almeno Ma raga c'è un altro round? Sì sì No Ma perché mi dà la pubblicità? Perché Ragazzi Adesso facciamo Facciamo Ragazzi Tornate al centro Tornate al centro Esatto Facciamo Snipers Versus Runners Esatto Praticamente In poche parole C'è Uno che è Il cecchino Che deve sparare A quelle persone Che corrono Andiamo Mi tempo Sono gli altri due Sì In questo caso Ma Vieni Quanto è stato Quanti round 3 round Sì No Io ancora corro Si anche a corre Alla scape Ah no Scale Eh no raga Non c'è perché Non ci so Accidenta Torna al centro Per non al centro Fail incredibile Sono soldi Ma come ci sta Ci sta Vieni Rosa Ragazzi Aspettatemi Entrare Aspettatemi Entra 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 Andiamo Ci siete Vai Oh finalmente Sono sniper Oh ci ho fatto Vai rosa Vai rosa Vai rosa Per me Per me Non ci Sniper Malissimi Ragazzi Ma io dove è che devo andare Per prendere lo sniper Quanto vi pare ma Cioè Raga Dove andare Dove andare Dove è quel coso Dove è Eh sì Ma io come ci vado Lì sotto Eh Decidavi Decidavi Andare però Apri il paracadute Dopo Ok ok Fatto Fatto Raga Orca Ma ti sta mirando Sì Ti sto mirando Annotato L'ho visto cadere malissimo E' la posizione più facile per cui ci prenda Quando sono entrato E' la posizione più facile per cui ci vuoi abbassare la posizione più facile per cui ci vuoi abbassare la posizione più facile per cui ci vuoi Ma no Ah butta Dai ragazzi io me lo mostri dai Iiiiiiii Iiiiiiii Ah giusto ci vado a le poveri C'è da andato vicino Forza Oddio 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 No Come fate un chioia party No 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 Un'ational Quando Ragazzi scusate ma forse non potete stare un secondo termo. No è per te stanno una cosa Volevo usare per favore Perché forse c'è il fuoco amico Cioè non c'è il fuoco Vedi siamo amici Ragazzi 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 tornate al centro Ragazzi Diccelo e non si cade No ragazzi Abbandona Bisogna cambiare le squadre Sì abbandona Abbandonate Tornate al centro Perché fra Che fail è assurdo Scusate ragazzi che fail È vero che fail Perché io me ne ero accorto Quando ho sparato e ho preso in pieno in rosa A me mi hai preso? Sì in pieno ti ho chiappato Venite su Allora appena arriviamo qui dentro Entriamo e cambiamo squadra Io ho squadra 3 Io ho squadra 3 Io ho squadra 7 Io ho squadra 7 Io ho squadra 7 Come si può mettere raga 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 No no ti non lo fare Ti non lo fare Tu resti squadra 1 Chi? Io rosa L'hai messo a squadra 7 Scape? Sì Aspetta Aspetta non mi abbiate Voglio fare io lo sniper Vai fatti Farlo sniper Raga io vi dico Dopo questa Vai faccio ancora lo sniper Sì 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 Non lo faccio io lo sniper Non lo faccio io Ah raga si decide noi Lo faccio Dai farlo Io sono a correre Sto correndo Eh sì Fra Sto venendo con te Eh ma dopo te scappi il problema che dopo te respawni là eh Ma perché c'è Voglio scappare vada se ne perdite due Eh? Eh sì Raga l'ambulanza mi sta facendo la gara E non era da me l'ambulanza No Ma si struttura Non sa cadere Era da Olimo so L'ambulanza Sì sì davvero Porca l'abbiamo in usciato Comunque era che sto giochino allora O cati o solo non ti via mai E come ho fatto a prendere? Le cose sono due Come ho fatto anche a party? A me Chi sta mirando? Non scape Perché sei così arrivato Ragazzi Ragazzi Quanti minuti di video? Quanti minuti? Non lo so Non lo so Aspetta Sono concentrato a prenderti Ma lo scapi dov'è? No Che fame Che fame Che fame? 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 Buuta cosa Dove sono scape? Aspetta Puglia più armi che non bastano Scappi ma stai su? Sei arrivato su? Sei arrivato su? Si Veramente sei arrivato su? Si Si Non ci credi? No Sfiga Sfiga No No Scusa L'ho ucciso? Si m'ho ucciso Grand Ma scape dissi suscitato? Ma che suscitato? Raga scape dissi Dello scape l'ho ucciso Ma c'è ancora le armi? Si No ma perchè è vero c'è il checkpoint lì Oddio mio Aiuto Prepa ti proteggo io Dove siamo? No come fai? Ragazzi torniamo al centro adesso tocco qualcun altro No dai no Facciamo l'ultimo dai l'ultimo Vai si va bene Torniamo al centro ragazzi Perché? Eh almeno facciamo Meno cambiamo Facciamo John Wars No no Facciamo sempre Beh facciamo Una box fight No no Facciamo una Ragazzi Ragazzi Quanto sei? Non lo posso dire Eh allora ragazzi Allora andiamo Facciamo una John Wars Ragazzi E poi facciamo una Sniper Sfers E dopo chiudiamo il video Torniamo al centro Zitto Vieni al centro bimbo Eh c'è un problema Che c'è? Mi devi dire Mi devi dire quanti Shhh Eh non lo so Si fa noia Si fa noia se non ne voglio Vabbè Vieni al centro 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 Ragazzi guarda domina che mi sono incastrato Ti sei incastrato? Si Sono buggato Oli 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 a quante sei? Perché? Fra Eh ti dimmi a quante sei? Non lo so a quanto sono Dovrei essere tipo 20 minuti Fra Eh allora fra stacciamo un video 20 minuti allora se ne facciamo male Ciao ragazzi ci siete a un prossimo video Eh bella Si Ci si vedrà insieme in compagnia di loro Iscrivetevi Lasciate Lasciate un bel mi piace E attivate la campanellina per non perdervi i nostri super mega video E ciao Ciao